Il ricordo di Tesei sono le ore in bianco che ho passato quando già prigioniero ho saputo dalla sua morte, era fisicamente sgraziato, brutto direi, intellettualmente vivacissimo, spiritualmente enorme. Mi vanto di essere stato suo amico ed è sono io che ho voluto che il raggruppamento in cursori si chiamasse Teseo Tesei.